Il podio perché Salome Pasava, la Georgiana ha ottenuto anch'essa 17 come l'Azzurra. Ora siamo in attesa del punteggio di Margherita Mamun che dovrebbe scavalcare anche la Durunda con 17,85 l'Ucraina Rizadivava. Attenzione! Fino ad adesso un po' la delusa delle finali di specialità. Manca del concorso generale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.